Allora E qui è stato fermo, non ha fatto niente Guardi che il signor non c'è L'ha segnato con casa Saraglia Saraglia perché era una mica 30 cm la porta Quindi non poteva neanche fisicamente Non poteva tirare fuori Cambierà la partita sola C'è la prima tele C'è la prima tele C'è la prima tele C'è la prima tele E' 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 la prima tele Ma non è una tre Ma molto, molto Ma non è una tre Ma non è una tre Certo, non cambia l'allenatore di Zidane Sicuramente perché 3 minuti No, 4 minuti E' riduta E' una tre E' la prima tele Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.